Con lo strumento Progetta stanze, stiriamo sul foglio il perimetro dell'appartamento. Quindi immettiamo le misure dei lati. Successivamente lo suddividiamo in stanze. Per abbreviare il video, vediamo il risultato finale. Il pulsante blu 3D ci mostra l'anteprima tridimensionale. Inseriamo i serramenti. Prendiamo una porta, correggiamo le dimensioni e la inseriamo centrata tra due punti all'ingresso. È possibile metterla anche ad una certa distanza da un punto. Per brevità, non mostriamo l'inserimento di tutte le porte e finestre. Il sistema è sempre lo stesso. Andiamo in 3D e attiviamo la vista dall'alto. A questo punto trasciniamo gli oggetti d'arredamento, iniziando dai sanitari. Una volta nella pianta, li ruotiamo secondo necessità e li spostiamo dove occorre. La logica è la stessa per tutti gli oggetti. Perciò, vediamo subito il risultato finale di un arredamento completo. Infine, passeggiamo nell'appartamento, volendo registrando la passeggiata da dare al cliente. Grazie. 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 Grazie.